C'era un bel crocchio di gente attorno al signor Bermoutier, giudice istruttore, che stava dando il suo parere sul misterioso diritto di Saint-Claude. Quell'assassinio inesplicabile angosciava da un mese tutta Parigi. Nessuno ci capiva niente. Il signor Bermoutier stava in piedi, con la schiena appoggiata alla mensola del caminetto. Esponeva fatti, raggruppava le prove, discuteva le varie opinioni. Ma non arrivava a conclusioni. Parecchie signore si erano alzate in piedi per avvicinarsi a lui e stavano con lo sguardo fisso, alla bocca non sovrastata da baffi, da cui uscivano parole gravi. Rappiridivano, vibravano, scosse da una strana paura, dall'avido e inseziabile bisogno di spavento che assilla le loro anime e le tortura come una fame. Una di loro, più pallida delle altre, durante una pausa disse È una cosa spaventevole. Raggiunge il soprannaturale. Non se ne saprà mai nulla. Il magistrato si rivolse direttamente a lei. Sì, signora, probabilmente non se ne saprà mai nulla. Quanto alla parola soprannaturale che voi avete pronunciato, qui è fuori di posto. Ci troviamo di fronte a un delitto abilmente concepito, tanto avvolto di mistero, che non c'è possibile isolarlo dalle circostanze impenetrabili che lo circondano. Invece, io ho avuto occasione, qualche tempo fa, di occuparmi di un caso nel quale sembrava davvero che entrasse qualcosa di fantastico, tanto si dovette chiudere l'istruttoria nella totale impossibilità di risolverlo. Più di una signora pronunciò contemporaneamente la stessa parola e con tanta immediatezza che le varie voci si confusero in una sola. Oh, raccontate. Il signor Bermoutier sorrisse con una certa gravità, come deve sorridere un giudice istruttore. Poi raccontò. Non pensate che anche per un solo attimo io abbia potuto supporre che ci fosse qualcosa di sovrumano in quella vicenda. Io credo solo alle cause reali, ma sarebbe molto meglio se definissimo quel che non riusciamo a conoscere semplicemente con la parola inesplicabile, anziché impegnare il termine soprannaturale. A ogni modo, nell'episodio che vi riferirò, fui colpito in modo particolare da circostanze secondarie. Insomma, ecco i fatti. A quell'epoca ero giudice istruttore ad ajaccio, una cittadina tutta bianca, posta su un golfo meraviglioso, circondata da alte montagne. Dovevo occuparmi in modo particolare di inchieste che riguardavano vendette tra corsi. Tra queste ne conobbi di terribili, tragiche, feroci, eroiche. Sono davvero soggetti tra i più interessanti. Perché gli odi sicolari, placati per il momento e mai spenti, le astuzie abominevoli, gli omicidi, si trasformavano in veri massacri e quasi in azioni eroiche. Per due anni ho sentito parlare solo del prezzo del sangue, di questo tremendo pregiudizio corso che obbliga a vendicare una qualsiasi ingiuria sulla persona dell'offensore, sui suoi discendenti e sui suoi parenti. Avevo veduto sgozzare vecchi, bambini, cucini e avevo la testa piena di quelle storie. Ecco che un giorno vengo a sapere che un inglese aveva preso in affitto, per parecchi anni, una villetta all'estremità del golfo e che aveva portato con sé un domestico francese, assunto mentre era di passaggio a Marsiglia. Ben presto tutti si occuparono di quel personaggio strano che viveva in solitudine a casa sua e usciva unicamente per andare a caccia e a pesca. Non rivolgeva la parola a nessuno, non veniva mai in città e ogni mattina, per un'ora o due, si esercitava tirando con la pistola o con la carabina. Sul suo conto cominciarono a circolare alcune dicerie. Qualcuno diceva che era una persona importante, esule dalla patria per motivi politici. Poi dissero che si nascondeva avendo commesso un delitto orrendo, di cui citavano persino e raccappriccianti particolari. Nella mia qualità di giudice istruttore assunsi informazioni su quell'uomo, ma non mi fu possibile sapere niente. Si faceva chiamare il Sar John Rowell. Dovetti perciò limitarmi a sorvegliarlo da vicino. In realtà non mi era stato segnalato nulla di sospetto a suo carico. Tuttavia, poiché le dicerie sul suo conto continuavano, ingrandivano, diventavano generali, mi risolsi a tentar di conoscere io stesso, quello straniero. Ti cominciai a cacciare regolarmente nelle vicinanze della sua villa. Attesi a lungo un'occasione, che mi si presentò finalmente sotto forma di una pernice, alla quale sparai uccidendola sotto il naso dell'inglese. Il cane me la portò. Allora, prendendo subito la preda, andai a scusarmi della mia improntitudine e a pregare al Sar John Rowell di accettare l'uccello morto. Era un omaccione con capelli rossi e barba rossa, una sorta d'Ercole grande e grosso, placido e cortese. Non aveva nulla della rigidezza britannica e mi ringraziò vivamente per la mia delicatezza in un francese con un accento d'oltremanica. In capo a un mese avevamo parlato insieme cinque o sei volte. Finalmente una sera, mentre passavo davanti alla sua porta, lo vidi che fumava la pipa a cabalcioni di una sedia, in giardino. Lo salutai e mi invitò ad entrare per bere un bicchiere di birra. Non me lo feci ripetere. Mi ricevette con la meticolosa cortesia inglese. Parlò elogiativamente della Francia, della Corsica. Dichiarò che gli piaceva assai quella paese e quello spiaggia. Allora, con grandi cautele, sotto forma di un interesse vivissimo, gli rivolse alcune domande sulla sua vita, sui suoi progetti. Rispose senza imbarazzo. Mi disse che aveva viaggiato molto in Africa, nelle India, in America. Soggiunse ridendo. Io ho avuto molte avventure. Oh, yes! Poi tornamo a parlare di caccia. Ed egli mi fornì curiosi particolari, su quelli all'ipopotamo, alla tigra, all'elefante e perfino al gorilla. Osservai. Tutte bestie con cui c'è poco da scherzare. Sorrise. Oh, no! Più cattivo di tutti essere uomo. Poi rise apertamente. Del riso simpatico che hanno gli inglesi quando sono di buon umore. Io, avere fatto anche molta caccia all'uomo. Portò il discorso sulle armi e mi propose di entrare, in modo che potesse mostrarmi diversi tipi di fucili. Il salotto era tapezzato di nero, di staffa nera ricamata in oro, grandi fiori dorati spiccavano sul tessuto cupo risplendendo come fuochi d'artificio. Mi disse, è una stoffa giapponese. Nel centro della parete più lunga, una cosa strana attirò il mio sguardo. Su un quadro di velluto rosso spiccava un oggetto nero. Avvicinai. Era una mano. Una mano umana. Non già la mano di uno scheletro, bianca e pulita, ma una mano nera disseccata, con unghie gialle, i muscoli a nudo e qualche vecchia traccia di sangue, di sangue simile a sporcizia sulle ossa troncate di netto, come da un colpo di scura, verso la metà dell'avambraccio. Intorno al polso un'enorme catena di ferro, ribadita, saldata a quel membro sconcio, l'assicurava al muro mediante un anello così massizzo che sarebbe bastato per tenere al guinzaglio un elefante. Domandai. Che roba è questa? L'inglese dispose tranquillamente. È il mio migliore nemico. Vive in America. È stato staccato con una sciabola. E la pelle è stata levata con un oggetto tagliente. Poi tutto fatto seccare al sole per otto giorni. Oh, questo per me è molto bene. Toccai quella mano che doveva essere stata di un colosso. Le dita smisuratamente lunghe conservavano enormi tendini congiunti qua e là da brandelli di pelle. Anche scorticata, quella mano era spaventosa e faceva pensare distinto a qualche vendetta selvaggia. Dissi. Quell'uomo doveva essere fortissimo. L'inglese rispose senza enfasi. Oh, yes! Ma io, più forte di lui, avere messo questa catena per tenere fermo lui. Pensai che scherzasse e aggiunsi. Adesso questa catena è inutile. La mano non può certo scappare. Con serietà, Sir John mi rispose. Lei volere sempre ander via. Questa catena essere necessaria. Lo guardai con un'occhiata rapita mentre mi domandavo se fosse un pazzo o un burlone di cattivo gusto. Ma il suo viso rimaneva impenetrabile, tranquillo e benevolo. Parlai d'altro e ammirai i fucili. Intanto feci caso al fatto che su mobili diversi erano posate tre rivoltelle cariche come se il mio anfitrione vivesse nel costante timore di un attentato. Tornai da lui più volte, poi non ci andai più. La gente si era ormai abituata alla sua presenza. Nessuno faceva più caso a lui. Passò un intero anno. Una mattina, verso la fine di novembre, il mio domestico mi svegliò annunciandomi che nel corso della notte Sir John Rowell era stato ucciso. Dopo mezz'ora ero nella casa dell'inglese insieme al commissario e al comandante della gendarmeria. Il servo, atterrito e disperato, stava piangendo fuori dell'uscio. In un primo momento sospettai di lui, ma la sua innocenza risultò subito chiara. Il colpevole non fu mai scoperto. Appena entrato nel salotto di Sir John, vidi subito il cadavere supino al centro della stanza. Il panciotto era strappato. Una manica pendeva a brandelli. Tutto mostrava che lì c'era stata una lotta tremenda. L'inglese era morto strangolato. Il viso gonfio e livido era spaventoso. Sembrava mostrare ancora un terrore folle. Tra i denti teneva stretta qualche cosa. Il collo era forato da cinque buchi che parevano fatti con punte di ferro ed era imbrattato di sangue. Un medico sopravvenuto esaminò lungamente le tracce lasciate dalle dita nella carne e disse queste strane parole. Si direbbe che è stato strangolato da uno scheletro. Sentì un brivido nella schiena e diedi un rapido sguardo alla parete nel punto dove un giorno avevo visto l'orribile mano scorticata. Non c'era più. La catena pendeva spezzata. Allora mi abbassai verso il morto e nella sua bocca contratta trovai un dito di quella mano scomparsa tagliato o piuttosto segato dai denti proprio alla seconda falange. Poi si procedette alle constatazioni di legge. Non si scoperse nulla. Nessuna porta era stata forzata, nessuna finestra aperta, nessun mobile manomesso. I due cani di guardia non si erano svegliati. Ecco, in poche parole, la deposizione del domestico. Da un mese il suo padrone sembrava agitato. Aveva ricevuto molte lettere che subito bruciava. Spesso, preso uno spudiscio, in crisi di collera che sembrava demenza, aveva colpito con furore quella mano secca fissata al muro e scomparsa chissà come nel momento del delitto. Andava a letto assai tardi e si chiudeva in camera con grande attenzione. Teneva sempre qualche arma a portata di mano. Spesso, nottetempo, parlava ad alta voce, come se avesse disputato con qualcuno. Quella notte, per caso, non aveva parlato e solo andando ad aprire le finestre, il servo aveva trovato Sir John assassinato. Egli non sospettava nessuno. Comunicai ai magistrati e agli ufficiali della forza pubblica quanto sapevo del defunto e in tutta l'isola fu compiuta un'inchiesta minuziosa. Non si scoperse nulla. Ebbene, tre mesi dopo il delitto, ebbi un incubo spaventoso di notte. Mi parve di vedere la mano. Quell'orribile mano correre come uno scorpione o come un ragno su per le cortine del mio letto e sulle pareti. Mi svegliai tre volte, tre volte mi riaddormentai e per tre volte vidi quello schifoso avanzo che girava attorno a me e nella camera, muovendo le dita come se fossero zampe. Il giorno dopo mi portarono proprio quella mano. L'avevano trovata nel cimitero, sopra la tomba di Sir Rowell, che era stato sepolto lì nell'impossibilità di rintracciare la sua famiglia. Mancava il dito indice. Ecco, care signore, la mia storia. Non potrei aggiungere altro. Rabbrividivano le signore, pallide e sgomentate. Una di loro esclamò Ma questo non è uno scioglimento e neanche una spiegazione. Se voi non ci dite che cos'era successo secondo la vostra opinione, stanotte non riusciremo a dormire. Il magistrato sorrise, senza dolcezza. Care signore, Se vi dico quello che penso, dissi però certamente i vostri sogni terribili. La mia opinione è semplice. Ritengo che il legittimo proprietario della mano non fosse morto, ma fosse tornato a riprendersela con la mano che gli era rimasta. Come abbia fatto, non ho potuto saperlo, ma anche quella era una storia di vendette. Una delle signore morborò No, no, non deve essere così. E il giudice istruttore sempre sorridente concluse Ve l'avevo pur detto che la mia soluzione non l'avreste accettata. non l'avreste accettata. Questa è la mia soluzione di vendetta. Grazie a tutti.